Pesca la tua patetica carta, così la facciamo finita. Ti stai sbagliando, nel deck di mio nonno non ci sono carte patetiche. Guarda un po' cosa ho pescato. L'invincibile Exodia è il proibito! Oh, ma è impossibile! Ho messo insieme tutte e cinque le carte speciali. Tutti e cinque i pezzi del puzzle! Exodia! Non credo ai miei occhi! Nessuno è mai riuscito ad evocarla! Exodia! Annientali! Annientali! Grazie.